Musica Ci troviamo nella tenuta Colpetrone, che è la tenuta Umbra-Montefalco del gruppo Tenute del Cerro. Colpetrone nasce ufficialmente nel 1995 e fa parte di un progetto di espansione e di investimento che Tenute del Cerro ha deciso di fare in terra Umbra, partendo dall'originale proprietà in Toscana. Il gruppo, alla fine degli anni Ottanta, identificò nel territorio specifico di Marcellano, che è all'interno della denominazione, il nucleo originale da cui è partito tutto il progetto dei vini di Colpetrone. Musica Qua ci troviamo nella barriccaia, che è il cuore pulsante della cantina di Colpetrone. Qua abbiamo stipate tutte le nostre barrique, tutte di legno di rovere francese. Le utilizziamo per massimo tre anni. Le barrique contengono tutto Sagrantino di Montefalco. Noi produciamo Montefalco Rosso, Montefalco Sagrantino, Montefalco Sagrantino Passito. Facciamo una selezione di Sagrantino denominata O di Colpetrone. Facciamo Greghetto e Montefalco Rosso. Musica Qua ci troviamo nel locale di vinificazione, che è essenzialmente il locale adibito alla trasformazione del mosto, e quindi dell'uva appena avviciata, in vino. La fermentazione avviene in modo separato. Tutti i vigneti, ripeto, vengono vinificati in modo separato. Le uve non vengono acquistate. Utilizziamo tutte uve di nostra proprietà. E durante questo processo, che è un processo più difficile e delicato, cerchiamo di mantenere temperatura costante e controllata per far sì che i lieviti durante la fermentazione abbiano il loro habitat ideale. La prima vendemmia svolta nella cantina di Colpetrone è del 2003. La cantina è stata inaugurata nel 2005. In tutta la cantina abbiamo un impianto di estrazione della CO2 e abbiamo anche un impianto di riscaldamento a pavimento. Tutti i nostri fermentini e le nostre vasche sono munite di tasche, come vedete, dove passa acqua calda e acqua fredda per far sì che il vino abbia sempre la sua temperatura ideale. Grazie. Grazie. Grazie.